Ciao a tutti e benvenuti alla mia guida di Pokémon Smraldo da Kisi94 Questa è la parte 55 Lega Pokémon Ok, allora, batterò appunto i Super 4, il campione della Lega Pokémon Ma deciderò di non narrarla e lasciarvi la musica Ma metterla a velocità doppia Quindi godetevela Grazie a tutti 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 Seguite la prossima, ovvero il secondo di Super 4 Quindi commentate, votate e iscrivetevi Ciao a tutti